Io sto ai fatti, oggi si è arrivati ad un punto, cioè la condivisione sul fatto che serva una norma di salvaguardia che renda sicuramente costituzionale il sistema elettorale vigente. Questo è il punto. Cosa c'è dentro questa formula? Non lo so perché i partiti ufficialmente non l'hanno detto. Ovviamente immagino che al momento, perché non voglio essere ipocrita, ci siano delle riflessioni differenti da parte dei diversi partiti della maggioranza. Ora, nei prossimi giorni si affronterà questo dibattito e si cercherà di rendere compatibili su una soluzione idee che al momento, anche se non espresse, sono sicuro essere diverse.